Ciao a tutti, in questo, spero breve, video tutorial parlerò delle scale grafiche del compositore di stampe. Vediamo come realizzare una scala grafica e soprattutto come realizzarne due in una, nel senso che ne faremo vedere una sola con due unità di misure differenti, una in miglie nautiche e una in chilometri. Allora, avviamo il compositore di stampe, lo chiamiamo test, eccolo qua. Bene, inseriamo la nostra mappa, così non ci interessa tanto la mappa quanto la scala grafica. Per inserire la scala grafica abbiamo qua questo strumento, inserisci, eccolo qua. In questa scala qua, a noi interessa che siano in miglie nautiche. Eccole qua, miglie nautiche. Utilizziamo, adatta alla larghezza al segmento, in modo tale che sia così più visibile. Un attimo zoom, così lo vediamo un po' meglio. Eccolo qua. Ora vogliamo, qua sopra i numeri delle miglie nautiche e sotto dei chilometri. Allora, per farciò io suggerisco di utilizzare non tanto questa tipologia di scala, ma quella con le tacche. Ecco qua. In questo caso mettiamo le tacche in alto. Eccolo qua. Poi questa qua la duplichiamo, facciamo CTRL V e la duplichiamo. Eccola qua. La duplichiamo, la mettiamo sotto. E nelle proprietà utilizziamo unità mappa. Ok. Scusate, unità metri. Eccola qua. In modo tale che queste qua siano chilometri. Ok? Miglia e chilometri. Bene. Attualmente queste due scale così non sono molto, diciamo così, carine. Vogliamo che queste numerazioni della seconda scala sia sotto. Ora, in QGIS non c'è la possibilità di spostare la numerazione sotto. Però, con un semplice artefatto, vediamo come fa. Innanzitutto qua, queste tacche facciamo comparire di sotto invece che di sopra. E quindi da qua facciamo tacche in basso. Eccolo qua. Fatto ciò, i numeri sopra, anzi, fatto ciò, questo lo duplichiamo nuovamente, CTRL V, ecco qua. Lo duplichiamo di nuovo. In questo qua, la numerazione, questa qua, diamo un colore bianco in modo tale che caratteri, colore, scegliamo bianco, ok, e non si vedono. Questo qua lo spostiamo, anzi, adesso sono in sedimenti, questo qua lo spostiamo sopra, lo mettiamo vicino a questo. Anzi, lo mettiamo così. Perfetto. Questi qua, per far scomparire questa linea qua, questa la mettiamo come colore, carattere delle linee, e facciamo anche essere bianche, oppure direttamente trasparente, ok, ecco qua, e non si vede più. Questo qua lo prendo e lo sposto qua sotto. Ed ecco che, in brevissimo tempo, addirittura possiamo fare un'altra cosa. Questo qua lo spostiamo, questo qua, secondo, diamo come colore del carattere, non bianco, ma trasparente. Altrimenti se lo avviciniamo a quest'altro si vede, ecco qua. Quindi questo qua lo spostiamo, eccolo qua, questo qua e lo spostiamo. E quindi abbiamo due scale grafiche, quella di sopra miglie nautiche e quella di sotto in chilometri. Simpatica, no? Ciao!